37esima edizione di Ferragosto in Festa, festeggia con noi presso le piscine termali allo Sporting Center a Montegrotto Terme in provincia di Padova. Giochi ed animazione in piscina per passare la giornata di Ferragosto in serenità ed allegria. A partire dalle ore 15.30, caccia al tesoro, tiro alla fune, braccio di ferro femminile, tuffo con canestro maschile, karaoke estivo, sfilata ed elezione di Miss Sporting Center 2017. Premiazioni finali. Presenteranno e animeranno la festa Golden Gigi e Dino Antoniazzi con la collaborazione di Dino Currò. Musica, spritz, cocktail per tutta la giornata. Ferragosto in Festa, presso le piscine termali allo Sporting Center di Montegrotto Terme.